Ed è il realismo narrativo che nasce il germe dell'impressionismo tedesco. Alcuni artisti iniziano a uscire dallo studio per dedicarsi alla pittura di paesaggio realista, ma en plein air, all'aria aperta. Tre grandi autori, Lieberman, Slevoth e Korind, documentano la pregnanza dell'impressionismo in Germania e documentano anche un amore per l'Italia, che rimane un soggetto privilegiato per i pittori che vogliono cogliere la luce. Le cupole delle nostre basiliche rinascimentali, gli specchi d'acqua di laghi e fiumi con cui questi pittori attivi, soprattutto nella zona di Annovera, adoravano giocare, le carrozze sulle spiagge, ma anche le grandi navi ormeggiate ai porti. E l'immancabile neve che tanto affascinava con quei bagliori che restituiscono ogni colore. Ad Aosta, all'interno degli spazi espositivi del Museo archeologico regionale di Piazza Roncas, fino al 29 novembre, il progetto espositivo inedito viene proposto per la prima volta in Italia ed è il frutto della collaborazione istituzionale tra la regione Valle d'Aosta e l'Andes Museum di Annover, che vanta delle collezioni di arte tedesca dell'Ottocento e del Novecento, tra le più celebri al mondo.